Per accendere la stampante, clicca sul pulsante laterale. Attendi alcuni secondi la connessione con la rete Wi-Fi. Gli ordini al tavolo inviati dal menu digitale saranno mandati automaticamente in stampa, in tempo reale. Per ogni ordine inviato riceverai una comanda, contenente le informazioni necessarie alla preparazione dell'ordine. Gli ordini aggiuntivi che lo stesso cliente effettuerà durante il suo pasto verranno mandati in stampa in automatico. La nuova comanda mostrerà solo l'ultimo ordine inviato. Puoi stampare il riepilogo dell'intero ordine dal tuo gestionale. Clicca su Ordini e prenotazioni, Ordini al tavolo. Accanto all'ordine troverai l'icona di stampa che ti consentirà di avviare la stampa dell'intero ordine. Conta il progettare il suo posto generale. FI-L-O-U-G FI-L-O-R-A-L-Are I-L-O-R-A-L-A-L-O-G Il progettare il nostro posto generale